La zona oggetto di studio è la fascia tirrenica del litorale di Montedice, a partire dalle grotte di Contata Emiliana, di Polifemo e quelle sopra Bonagia. L'attività di ricerca portata avanti dallo Spegliott in Trapani rientra nell'ambito di uno studio più ampio sulle variazioni paleoclimatiche che hanno interessato il Mediterraneo nel Polistocene e Olocene, condotto dal geomorfologo e paleoclimatologo Fabrizio Antonioli, precedentemente ricercatore presso l'istituto Enea. Il dottore Antonioli è un geomorfologo precedentemente ricercatore presso l'istituto Enea di Roma e ci ha contattati nel 2017 dandoci un incarico di studio per poter completare quello che è uno studio molto più ampio che riguarda la ricostruzione paleoclimatica della Sicilia, quindi tutta una serie di dati che riguardano tutta la Sicilia. In questo caso lui aveva un gap nel settore di Monte Erice, per questo motivo ci ha contattato, mi ha contattato per eseguire tutta una serie di studi e di rilevi dal punto di vista geomorfologico, geolitologico e paleontologico per poter completare appunto questo tratto costero da inserire in questo studio molto più ampio. Praticamente attraverso lo studio di una serie di morfologie, resti paleontologici, depositi continentali e marini è possibile risalire alla variazione del livello del mare, dando la possibilità di valutarne le quote altimetriche direttamente correlabili alle fasi di variazione del clima. Particolarmente interessante le recenti scoperte dello Speleoteam nell'area di Bonagia, attualmente in fase di studio che, se confermati, aprirebbero nuovi scenari sull'orografia preistocenica di questo tratto di costa. In questo studio noi abbiamo individuato tutta una serie di morfologie che vanno dai terrazzi di ambiasolo marina a delle grotte incise sempre dal mare dove ci sono delle tracce come dei solchi di battenti, dei buchi di litofagi, quindi organismi che possono dare quella che è la quota del livello del mare nel variare, diciamo, nelle sue variazioni all'interno del periodo geologico del Pleistocena. L'insieme di tutti questi dati possono dare il risultato di quello di valutare le variazioni del livello del mare in modo da determinare appunto quello che è stato il paleoclima nel Pleistocena. Queste grotte sono state studiate anche dal punto di vista abitativo del nuovo preistorico, tant'è che sono state trovate diverse tracce sia di resti di pasto, quindi di vissuto all'interno della grotta. Ma non solo questo, si può andare anche in termini paleontologici perché sono stati ritrovati resti ossei di elefante nano, resti ossei di cervidi, quindi delle grotte che raccontano una storia che va dalla storia geologica alla preistoria, all'attuale, quindi delle grotte estremamente importanti con dei risultati, dei dati che sono già stati discussi con il geomorfologo, che hanno dimostrato l'estrema importanza e la particolarità di questo settore costiero nell'ambito regionale e quindi del territorio, diciamo, del Mediterraneo. Si tratta insomma di un importante studio e ricerca scientifica nel territorio e vicino che conferma l'importanza storica ed archeologica della fascia costiera del monte, anche per quel che riguarda gli aspetti geologici e tutti i fossili presenti in diverse grotte. I dati raccolti sono stati trasmessi al geomorfologo e ricercatore Fabrizio Antoniori che, insieme al suo team di specialisti, ne valuterà l'impiego nell'ambito di una ricerca più ampia. Adesso noi passeremo alla valutazione di tutti i dati che verranno studiati dal team di ricerca guidati sempre dal geomorfologo Antonioli e integrati nello studio regionale e quindi più ampio anche del Mediterraneo. Da qui la ricostruzione di quelle che sono le variazioni del livello del mare durante il plestocene, quindi una ricostruzione del clima come variata in base alle fasi fredde, le fasi calde del Mediterraneo e quindi le variazioni contestuali del livello del mare.